ci siamo siamo pronti ad iniziare fortnite il primo episodio sul canale fino ad ora abbiamo fatto solamente live abbiamo comprato la nostra prima cosa che cazzo era il nostro primo piccone che mi vergognavo ad andare in giro col piccone quello ancora di legno brutto pratico ed ora stiamo migliorando sempre di più sempre di più soprattutto con le costruzioni andremo anche a comprare nuove skin in live nei video porteremo nuovi ospiti sul canale e quindi io che dire vi chiedo di arrivare ragazzi almeno a 400 o 500 mi piace decidete voi è il primo episodio non vi voglio chiede mi piace voglio solo commettere vediamo a quanto potremo arrivare forza ragazzi guardiamo subito ho paura portiamo subito le nostre belle cuffiette ragazzi a webcam spenta ho comprato anche un nuovo un nuovo balletto fai click è brutto quanto la fame questo invece ragazzi il piccone abbiamo comprato l'altro ieri live bellissimo mi dicevano tutti quanti prendi questo prendi questo ma ma che è sta come che che cos'è allora dove ci buttiamo zozzi ci buttiamo a parchettino parchettino era la mia preferita andiamo verso la morte 1 2 3 4 ho preso non ci posso credo ha preso l'arbero in pieno ma ma tu guarda no no non ci credo scappa dacela va bene un attimo pure un po' demolizioni vai via un po' un po' lino un bella R dai 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 su sali 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 chi ha messo il C4 dove sta sentito come piazzi C4 dove cazzo sta il bastardone io non vediamo questa casta noi intanto vediamo accarti va bene cosa il volo qui all'aperto matti fraci che ha più di assi cose così oppela che era qua la testa che era qua la testolina sono 41 dottor to sono 41 dottor catroia un colpo 41 no a coglione che c'è ma eh bravo portami un bel piatto di insalata ma tutto questo qua eh se te non ti dispiace c'è sta uno vai via un po' eh dai me l'ha rupato non entrambene un ma che stai a fa' quasi quasi oh amaledetti chi mi ha sparato ma tutti da me sanno ma possibile e dove stai no non ci posso credere guarda non ci posso credere cioè questo piano piano l'ho sentito che sarebbe andato un becce a tornare indietro amo beccati tutti cioè non è che ci sono scontrati tra di loro no tutti contro di me tutti tutti arrivo mamma non vedo più nessuno ma dove stanno tutti andate così tranquillo io eccolo là ok è quello di prima è quello di prima no no mi è partito per sbaglio oh ma non mori busciamo busciamo ragazzi lui è alessandro il mausettaro buongiorno percicoria oh ieri ieri ho fatto tutte vittorie reali abbiamo fatto 20 20 kill in due avremmo fatto 10 a testa una cosa del genere però non si sa non si sa non si sa come sto migliorare le costruzioni adesso porca droga mi ricorda all'inizio facevo piano piano adesso ho appena detto ma vabbè ho costruisco tutto a casa pappa pappa tutti in atto buttamosa subito l'andela 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 no c'è grosso crede te passo crede te passo crede qui ci ho messo una trappola niente no ma hanno appassato la trappola io pure lo scarra questo lo scarra lo scarra quello lo trovo lo scarra vabbè niente guarda guarda non trovo un'arma guarda guarda ho fatto un'idea perché oh vedi che ho trovato è uscito da cazza graaaaaazzie quanto mi muovesco un attimino voglio fare un attimo un paio di kill da caccia per far vedere quanto so forte ma che davvero non lo so di modi valeri si butta a mezzo oddio 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 non ci posso credere parchettino dai parchetto vai con parchetto su su no non avevo capito non mi ho trovato un cazzo diverso ecco ho trovato ok ma d'oro No, però adesso no Ah, lo sei fatto uno, bravo Vai, mentre che si scopano io provo a fammeli Oh, e mori, a coglione Merda, c'è sta gente Olè, coglione L'avevo praticamente sbragato Infatti, infatti mi sono cagato sotto perché ho detto oddio a me E a lei c'è bene Mamma mia, di amo Oh, eccoli Per male Guarda, che cazzo spara Eccoli A terra uno Eh, a me mi stanno Fa proprio male, male, male Dove è? No, cazzo No, mi ho messo a terra, vale No, arrivo Eh, non so Adesso No, pezzo de merda Maledetto Sopra, sopra, vale Eh, che faccio Ma tanto è morto Cioè, eh, non ci credo Arriva sempre due team Ma io non ho parole Ma io non ho parole C'è sta gente Ottimo curale Se no, ne sparano Morti, 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 morti Oh, ti sono fatti tutti Porco due, un fenomeno Sono nove corpi Pompale Ah, non lo stavo messo in una merda Non è lootato qua dentro Eccoli Ho intato un bel po' Dove? Eh, stava vicino a te Stava Sopra, sotto Io ti so Quella Guardate come cazzo 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 era finito Oh, ma non muore questo Ma che ha deciso Eh, e mori Ale Bello, Ale C'è un più munizioni Stava ricarica Tutte i cosi Tutte le munizioni Qui perché Oh, a safe, cazzo Qua non è lootato per niente Vale, cazzo No, dai Non mi toglie la vita Dai, ti prego, ti prego Ti prego, no Ti mortesti tu E te la madre qua sotto Si può fare Si può fare Forza Eh, pure io sto Senza un cazzo Là c'è stancoso Vale, cacchio Ok, è un altro Distributore raro C'è un raro, epico Eh, leggendario Eh, vabbè, che può fare Facciamo un cazzo Andiamo un safe Va su, muovite Vuoi vedere che c'è sta Oh, lama, vale Lama, lama, lama Ma che cazzo sto a dire Cosa c'è No, non ce posso crede Ahahah, abbiamo gli scarro Dai, piavo scarro Dai, su, su Dai Sicuramente Succederà così Loot Du scarro Io penso Do una testata Armonitor Ah, dai, però Siamo arrivati Su Solo corpi Oh, oh, oh Mi chiuso il fiuto La droga Non potete romper Cazzo Tu vuoi morire Tu vuoi morire Sì, per forza Per forza RPG Mo' prendo io RPG Mo' prendo io Oddio, buono Non c'hanno una jump Non c'hanno un cazzo Questi Oscar Ce l'hanno loro Perfetto No, metto Perfetto 14 Mi devi rialzare Vale Casco per terra Moro Ma davvero Ale, sei un pazzo No, e te mori Ale Non gliela farei mai Devi dare subito Armonitor Ok Sì, sì Subito Dattolo subito Tu vattene Tu vattene Ciao amico Ciao Corri 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 Non hai una cosa Infine tua La faccio pelo Vale Ce la faccio pelo Entra dentro sta casetta Entra dentro sta casetta Ci siamo Mamma Siamo per forza vincendo Lo dico Se vincemo O te Ammazza a te O dammi ormai Lì Ti rimortaggi Cascato il coglione Oddio Non lo avete quanto Oddio Eccoli qua sopra Sopra di me Vintato Vai Vai Ale Famo gli male Ale Famo gli male A sti pezzi De merda Famo gli male A sti gran Viene la mignota Uno sta terra Perfetto Sì 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 Arrivo Arrivo Dove ce l'hai Qua davanti a me Ce n'è sta uno Dove? Ti copro da sopra Non ti preoccupare Dove stanno le costruzioni Con le scape vicino a me Vai vai No qua ce sto io Vale No non hai capito Ma è partito Dove sbaglio il corpo Bello Vai sta lì eh Guarda io Io incomincio Vai 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 E fa male Vai che tanto sta pensare Rianimarlo eh Oh devo ammazzare Per forza eh Ale sta morì Morto Morto Ah ti sbatti Perfetto Sì Eh Ce ne sa Per forza No moro cazzo Tre di vita No Oddio Oddio Sto impazzo Ragazzi dammi lancia razzi Non ce l'ho manco io Senzi lo mettono a trappola di qua No Eccolo No l'ho iltato L'ho iltato Ho iltato pure io Ho iltato col ceco Vai In volo Bello vai così Non per cazzo No non gli faccio Ok me la fanno buttata E' il kick Ciao ciao Va bene Sossi cagnoloni Che dire Una partita perfetta Secondo me Un gioco di squadra Magnifico Ci dobbiamo veramente Niente Dobbiamo ringraziare Una persona in particolare E la ma Ma esatto Se trovavo materiale lì No Avevamo perso Avevamo perso Canale del mister carosello In descrizione Che dire io vi mando Un bacione Instagram In descrizione Ci sentiamo Arrivederci Grazie Ciao 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 Ma che ne sapete però, ma che ne volete sapere E' vero come le barriere, io dico parole veritare E' vero come la parete che separa la fame fra dalla 7 E' vero, io pensavo che ne pare fosse giusto